San Antonio da Padova Rientra tra i santi più amati e venerato in tutta Italia e nel Cilento Ha avuto una particolare predilizione per i bambini Tra i miracoli da lui compiuti quando era in vita Più di uno riguarda proprio loro Numerose associazioni nel mondo sono nate e operano nel nome di San Antonio Portando la sua presenza soprattutto caritativa I divoti di San Antonio rivedono in lui un amico, un ascoltatore e un convidente Egli è l'interlocutore dei poveri che dialoga con chiunque abbia da condividere Qualche sofferenza nel corpo e nello spirito Anche a Laurito, un noto centro cilentano, è molto sentito il culto legato a San Antonio da Padova Il 14 giugno scorso si sono svolti i solenni festeggiamenti con Santa Messa alle ore 19 E di seguito la solenne processione per le vie del paese Anche a Laurito, due mothers 않tentano, è molto sentito l'ambiente